La polizia di Stato di Oristano, su disposizione della Procura della Repubblica, ha arrestato un extracomunitario responsabile di evasione. L'uomo, un senegalese di 29 anni, qualche giorno fa era stato sottoposto agli arresti domiciliari, ma invece di rimanere dentro casa è scappato ed è andato a Cagliari, dove è stato rintracciato e fermato dalle volanti della questura del capoluogo. Nei giorni scorsi, il 29enne, sotto l'effetto dell'alcol, si era reso protagonista di alcuni episodi molesti a Oristano, arrivando anche ad aggredire i poliziotti intervenuti nell'occasione. A giugno si era introdotto in una chiesa cittadina e, urlando frasi prive di senso, aveva interrotto la funzione religiosa. Gli agenti della squadra mobile hanno condotto l'uomo presso la casa di reclusione di Massama, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dei processi per i numerosi reatti posti in essere nell'ultimo periodo. Entro cinque giorni verrà poi sottoposto a interrogatorio di garanzia dal GIP del Tribunale di Oristano. Nuovi contagi nell'Oristanese, uno a Santa Giusta, due a sedere, lo hanno fatto sapere le due giunte comunali dopo le comunicazioni ricevute dalle autorità sanitarie. La persona ha positiva è stata già sottoposta alla terapia presso un reparto di pneumologia di un ospedale di Cagliari, ha dichiarato il primo cittadino di Santa Giusta, Antonello Figus. Le persone che lavorano a stretto contatto con lui saranno sottoposte lunedì 31 agosto alla verifica di eventuale contagio e sarà praticata loro la visita col tampone. Essendo persone impiegate in un'attività commerciale, sono state a contatto con altre persone, ha aggiunto il sindaco Figus, per cui chiunque accusi sintomi riferibili a contagio da Covid, come febbre, spossatezza o difficoltà respiratorie, avvisi immediatamente il proprio medico di famiglia e chieda di essere sottoposta al tampone. Il comune di Sedilo parla di situazione sotto controllo. Le due persone contagiate si trovano in quarantena obbligatorie e sono costantemente monitorate. Desidero sottolineare che non esiste alcun pericolo, ha affermato il sindaco Salvatore Pes, ma ritengo fondamentale rimarcare l'importanza di attenersi alle risosizioni emanate dagli organi di governo e di regione, anche con l'ultimo provvedimento del presidente del Consiglio dei Ministri. Sono consapevole dei sacrifici che ci vengono richiesti, ha continuato Salvatore Pes, ma ognuno di noi deve fare la sua parte, nel far proprie le misure che servono al contenimento del contagio. Tutte le misure sono state puntualmente rese notte sui canali istituzionali. Nel sistema della pubblica amministrazione c'è chi insiste nel perpetuare il lavoro a distanza, cioè lo smart working, con il quale si lavora da casa ritenendo che questo metodo in periodo di pandemia abbia risolto il problema del dovuto adempimento al proprio dovere. Alcuni esperti hanno sostenuto che l'esperienza protrattasi per diversi mesi è stato un fallimento e che sostanzialmente per la maggioranza di quanti vi erano coinvolti è stata una sorta di prolungata vacanza che ancora prosegue. Si sostiene che sarà comunque il metodo di lavoro del futuro e che sono già al lavoro staff per affinare le tecniche di collegamento, ma resta da capire come sarà la futura articolazione dei servizi all'interno della pubblica amministrazione e quale il rapporto con i cittadini. E in attesa che sotto il cielo stellato delle nuove tecnologie vengano effettuate queste scelte avveniristiche, c'è già chi il lavoro a distanza lo ha abolito richiamando negli uffici dipendenti. A farlo è stato il sindaco di San Luri, Alberto Urpi, a capo di una coalizione civica, che ha emesso un'apposita ordinanza nella quale dispone il rientro negli uffici di tutti i dipendenti per garantire un più semplice e completo servizio ai cittadini. Spiegate anche le misure di sicurezza che sono state adottate. Come avvenne nei mesi di marzo-aprile, quando ci si interrogava se le mascherine fossero di destra o di sinistra, questo alla luce delle polemiche odierne di fronte alla crescita dei contagi e se anche questo ha una matrice politica. Una domanda destinata a restare senza risposta e per gli elementi di confusione presenti nel Paese, con pochissime regioni finora immuni dalla ripresa dei contagi ed in ogni caso l'insieme del sistema delle autonomie regionali farebbe bene ad assumere per proprio conto le misure di controllo e verifica che vengono ritenute necessarie. Questo vale naturalmente anche per la Sardegna con il presidente Cristian Solinas, che deve ricordare il fatto quando gli venne vietata la proposta iniziale di una sorta di passaporto sanitario per quanti intendevano entrare nell'isola. Ora si tratta di stringere sui controlli, in particolare per quanti entrano in Sardegna, mentre il presidente del Lazio e segretario del PD Zingaretti invoca anche quelli che dall'isola devono sbarcare dalle navi a Civitavecchia e in aereo a Fiumicino. A livello nazionale, infine, non sarebbe male un appello per evitare i viaggi avventurosi nei paesi percorsi dal virus e attendere tempi migliori. Sono stati numerosi gli interventi delle sentinelle del Sinis durante la stagione estiva, in gran parte volti a una vera e propria educazione del turista, spesso ignaro delle regole vigenti nell'area marina protetta. Incredibilmente alcuni sembrano addirittura non conoscere quella che vieta di portare via la sabbia dal litorale e si cerca di spiegare loro l'importanza del lasciarla nel suo ambiente naturale. Il lavoro delle sentinelle volontarie va anche oltre. Qualche giorno fa alcune di loro si sono attrezzate per realizzare una pulizia straordinaria di cicche e altri rifiuti dal muretto della spiaggia di Isaruttas. Purtroppo ci sono ancora troppi maleducati in giro, affermano dall'area marina protetta, dove ricordano che abbandonare i rifiuti di prodotti da fumo e punibile ai sensi dell'ordinanza sindacale 70 del 27 luglio 2019 con una multa fino a 500 euro. Ma davvero è necessario ricorrere alle multe, affermano? Davvero non basta il buonsenso? L'appello è ai fumatori. Se proprio non potete fare a meno di fumare, dicono utilizzate un posacenere tascabile, le nostre sentinelle ve ne forniranno uno se non lo avete con voi e svuotatelo poi nei cestini delle isole ecologiche quando andate via dalla spiaggia. È importante proteggere il nostro territorio. Le massime figure apicali che stanno ai vertici degli apparati burocratici di comuni e province benedicono le leggi 127 del 15 maggio del 1997 e la 191 del 16 giugno del 1998 che hanno introdotto i premi per i risultati di gestione. Per i dirigenti le valutazioni sono affidate a specifici nuclei che prendono in esame i risultati del lavoro svolto nel corso dell'anno. Poi in ordine decrescente sono i dirigenti a pesare l'attività dei sottoposti anche questi oggetto di una sorta di verifica sui risultati ottenuti dietro le scrivanie. Arduo entrare nelle pieghe di queste procedure che finiscono col creare tensioni e malumori dove in molti inutilmente contestano quanto attribuito in termini di punteggi collegati alle attribuzioni finanziarie e strastipendio. Per i dirigenti non si tratta di spiccioli e ad esempio negli anni d'oro di metà del 2000 agli otto dirigenti della provincia, tanti erano in quel periodo, aventi stipendi mediamente di 90.000 euro l'anno ricevettero un premio di risultato oscillante tra i 7 e gli 8.000 euro. Ora i tre che in via Mattei sono rimasti in carica sono in lista d'attesa mentre quelli del comune hanno avuto un riconoscimento che si avvicina ai 10.000 euro pro capite. Nuovi trasferimenti e nuove nomine disposti dall'arcivescovo di Oristano Monsignor Roberto Carboni. L'arcivescovo ha assegnato a Don Mariano Pili le parrocchie di San Pietro Apostolo a Solarussa ed è la Santissima Trasfigurazione a Zerfaliu. Don Marco Floris sarà parroco della chiesa di Santo Antonio Abatte di Desulo mentre Don Michelino Luisi va a Tonara dove sarà parroco della chiesa di San Gabriele Arcangelo. A Don Valerio Casula al rientro dal ministero svolto tra gli emigrati italiani in Germania sono state assegnate le parrocchie di San Pietro Apostolo a Nurallao e di Santa Maria Maddalena a Nuragus. Monsignor Carboni si legge in una nota diffusa dall'Arcidiocesi Arborense e ringrazia le comunità parrocchiali coinvolte nei trasferimenti per la generosa disponibilità e assicura che provvederà in breve tempo alla nomina di altri parrocci. Il maltempo che si è abbattuto con forza in città e provincia ha causato forti disagi in molte zone. Sono stati numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge che istituisce il sistema regionale per la rilevazione e l'analisi delle produzioni lattiero-casearie del comparto ovino e caprino realizzate nel solo territorio della Sardegna. Dei quantitativi di ciascun prodotto ceduto e delle relative giacenze di magazzino. Sabato 12 settembre, a partire dalle 15, i campi San Nicola di Via Levante a Oristano ospiteranno la prima edizione di A Scuola di Sport, manifestazione ideata per promuovere l'attività sportiva come mezzo di socializzazione e di crescita personale, nel rispetto degli altri e delle regole. L'iscrizione è gratuita. L'area socio-sanitaria locale di Oristano deve affidare un incarico provvisorio di assistenza primaria per l'ambito territoriale del distretto di Oristano, con obbligo di apertura dell'ambulatorio nel comune di Cabras, a partire dal 7 settembre, per un anno comunque fino all'individuazione del medico titolare. I medici in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale interessati a ricoprire l'incarico provvisorio dovranno compilare la domanda utilizzando il modulo reperibile sul sito www.atssardegna.it